Ehi, ci vediamo il panorama. No, io prendo il... Basta? Oh, come vai? Dove l'hai? Ancora c'è il nome che va. No, no, prendi, prendi. Sì. Adesso? Lillo, prendiamo l'altro prossimo, io e te. Sì. Mamma! Guarda le scale. Laila, sei brava, ma devi guardare quello che fai, more. Bravissima. Stai tirando su anche me? Sì, perché è un ottimo. Sì? Sì. Io sì! E i guanti? Ti metti i guanti che non... Non ho spina. No, no, non ho spina. Lingo io, sì. Non finire su me. Così? Ti sei più comodo? No. Ok. Ok. E qui è più più comodo se lo tiravi su. Eh, non so. Se lo tiravi su. Ti lascio basso. Ok. Com'è il sudore? Che mamma! Il tappeto volante, Laila. Adesso vedi le scale, crack. Adesso vedi che scivolo indietro. Non tirarmi. Io po'. Eccoci, eccoci. Adesso andiamo con noi davanti. Facciamo quello pure, Laila. Sì, ma si senta un'ora. La mamma è passata. Mamma, saranno i primi ma non hanno un'ora. Ma... Sì, 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 sì. Sì, 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 sì. No, 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 no. Dai, Nick, dai, Nick. Non riesci a puntare. Potre a mettere. Sì, veramente. Noi stiamo portando due! Noi stiamo portando due! Andiamo a mettere anche noi due. Se volete vincere... No, no, il meno tre, Nick! Eh, ma se vogliamo vincere, dobbiamo portare due di nuovo. È vero! beh noi stiamo portando l'ultimo il penultimo quindi abbiamo visto il bravo aspetta che dobbiamo aspettarli che riguarda quanto lenti sono no mamma mia beh noi ne abbiamo due e noi ne abbiamo l'ultima sono le nostre le ultime le ultime le abbiamo noi che c'è? abbiamo vinto no mancano ancora i rotoloni non è vero non è vero devi sbrigare si si deve fare caldo ma Nick dai devi sartere Nick 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 da te la balza da te la schiaccio Nick prendi tu Nick Lillo vai Lillo vai Lillo la 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 Nick prendi Laila vai Ludi o l'argo 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 Grazie a tutti. 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 Yeah. Grazie. Grazie a tutti. 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 a tutti. Grazie a tutti. a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. 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 Sì così Perfetto Così cogli ho avanti un uccino Quando ho bisogno di fermare Sento la perfettura Ok Cioè è la perfetta Ma voglio tenere la Che paura che viene Ok Ok Vado Vado Ok Anche un po' lonti Questa si Guarda Guarda lì qua sotto loro Mamma c'è la porta a passarlo Grande nana Ci proviamo per il prossimo Questa è quasi più pesante di quella prima Ma come mai hanno così di differenza il peso Dipende quanto denso è legno Una mano avanti e una mano indietro Sì Qua sia Brava Laila che si costruisce il pavimento Sì Pronto questo Ok Per girare il tavolo 90 gradi sopra Sì Giusto amore Sì Quella è tutta bella Ma l'altra parte è un po' meglio Bella Prendi la matita Prendi la matita Io devo andare adesso Ah ok Non posso andare così Sì sì Andare In là Non sai quanti lavori Potrai fare No ma però questo lo devo per forza tirare Dai lo sai Guarda Questo è bellissimo eh No ma No ma No ma Sì No ma No ma Sì Sì si vede l'errore qua sotto la matita due, ok, due, cinque, cinque due, cinque, cinque, due, cinque, quattro, ok? no perché non va più da trecento non arriva a trecento, cinque, cinque stai lì che controlla se è giusto? solo per dare un'occhiata, ma guarda, sicuramente ok, è perfetto ma Quattro? Piano, ok adesso fai il perno, si, si nana? Sì, e adesso devi tirare la versante, dai, vai, benissimo. Piano, ok? Piano, ok? Piano, ok? Piano, ok? si ok Dovrai spostare la scala, sai? Meti la... Yes! Guarda dietro. Eccola! Bambino! Vai, vai, ancora più. Ok. Un po' lunga anche questa. Questa è lunga! Forse è troppo lunga quella. Servici al mertello? Sì. Eh? Che c'è? L'ho preso! Aspetta che... Aspetta! 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 Aspetta che... A presto. Il nostro corso gratuito è www.mesmerism.info 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 Grazie. 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 Stai sotto, secado. Il più forte. No. Grazie. 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 Grazie.